Musica Le procedure di stabilizzazione avviate dalla ASL 1 Avezzano sul Mone L'Aquila e riservate ai dipendenti delle cooperative che hanno svolto attività sanitaria e sociosanitaria per l'azienda rappresentano un'ulteriore significativa risposta del Governo regionale per raggiungere standard elevati di qualità nei servizi ospedalieri. Non solo sono il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale durante l'emergenza Covid. Così il Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci e Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi sulla procedura di selezione riservata fino al 50% dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano svolto prestazioni in regime di esternalizzazione per la ASL 1 nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2021. La ASL diventa così tra le prime in Italia a dare attuazione alla legge che ha introdotto due tipi di deroghe alla regola dell'assunzione attraverso concorso pubblico la possibilità di procedere la stabilizzazione del personale sanitario già reclutato presso l'azienda ospedaliera con contratto a tempo determinato e la facoltà di bandire una selezione per quelle figure professionali dipendenti di cooperative sociali impegnate nell'ereguazione di assistenza ai pazziati psichiatrici affetti da dipendenze patologiche, disabilità, disturbi dell'aspetto autistico solo per fare alcuni esempi. Un segno importante da parte dell'Aggiunta Marsilio e della direzione provinciale che stanno affrontando in modo strutturale la carenza di personale sanitario ha aggiunto Biondi. I bandi saranno pubblicati nelle prossime settimane come si evince dalla relazione che la direzione dell'azienda sanitaria ha rimesso al presidente del comitato ristretto saranno stabilizzate circa 80 unità di personale tra precari della ASL 1 e internalizzati.